Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Minecraft per un nuovo episodio Nello scorso episodio avevamo fatto il piccone incantato, la libreria e tutto il resto, oggi Today is the day, Iron Titan, la finiamo Avevo chiesto mille mi piace per lo scorso video, è passata un'ora, siamo a più di 400 Penso che potremo tranquillamente arrivarci, quindi io intanto inizio perché comunque un'ora di registrazione è lunga Cioè un'ora di firmata è lunga e in registrazione sono molte di più Quindi di buona lena ci mettiamo qua a registrare il video dell'Iron Titan Mi raccomando ragazzi, supporto con il mi piace, che oggi finiamo la farm di ferro più epica della 1.16 No, non è l'unica, però è l'unica Iron Titan che si può fare in 1.16 Allora, lava, ci servono secchi di lava perché dobbiamo andare a uccidere i villager Ci serviranno anche degli hop perché andiamo subito a craftare Quindi il primo step è andare nel nether a prendere della... Ok, ho le chest qua Quanti hopper ce ne servono? 9, pare brutalmente, fantastico Quindi fai così, così, 9 hopper e ci facciamo 1, 2, 3, 4 secchi di lava Ok ragazzi, ho l'invorto dietro un po' di cobblestone Andiamo a prendere nel nether la lava Che tra l'altro, ecco, mi devo ricordare Oh Cazzo fai? Matto Cioè già ci sciottavano, non ho l'armatura E questo è un grande problema Mi sono scordato di rifarmela, infatti ci dobbiamo ricordare a farla In che senso? Mi sto prendendo il quarzo perché con tutto sto... Effettivamente è carino il quarzo e va bene, siamo d'accordo Poi me l'avete scritto nei commenti, io non ci avevo pensato Ma il quarzo dà parecchia esperienza Se ne trova tanto nel nether, già siamo a 29 livelli Quindi sarà praticamente molto facile tornare e fare 27, 30, 27, 30 Di incantare come i draghi Perché dobbiamo incantare veramente tante cose, quindi ci mettiamo giù e di buona lena scaviamo il quarzo Nel mentre vado a prendere la lava, volevo dirvi Fare sto appuntino che probabilmente tornerò nell'overworld con 30 livelli per incantare il piccone che ci rimane Che una scalinata me la ero anche fatta per andare a prendere la lava Ed eccola qua, fantastico Quindi siamo a 30 livelli, possiamo tranquillamente risalire Non si vede la scala ma è questa qua Io vorrei evidenziare se possibile con della stone Ecco infatti, perfettamente, proprio così La volevo anche rendere un po' più sicura Che mica per niente, se mai Che arriva qualcuno, ci spara Qualsiasi cosa, non so, non si capisce Poi è, è problema, no, no, no Con calma uno la fa come deve Sta attento, ecco, per esempio così E qui se no uno vola di sotto Anche perché poi non si ritrova, non si capisce bene cosa fare, come quando farlo e perché Così io mi adatto E evito di fare fail Che son solito fare Ok, primo step fatto Era anche il più facile ma va comunque bene Uno, due, tre Ci prendiamo i lapislazzoli Il piccone che si è rotto Ma che ce frega Magari lo uniamo all'altro Per rendere, fare una picca di Con i controazzi Efficiency for E fortune 2 Vedete, vedete però Fortune 2 Inziamo ad avere due picche Di un certo livello Tra l'altro Non ho la blaze powder Devo prenderla Mi serve l'ender chest Per separare, diciamo, le cose di più valore Però fortune 2 è buono Fortune 2 non si porta in miniera Fortune 2 No, te lo porti Se non hai seal touch invece Se hai seal touch Se non hai seal touch Te lo porti Se hai seal touch No, te lo porti Però quando andremo a scavare Magari nei prossimi giorni Abbiamo un fortune 2 Da poter utilizzare GG, tanta roba Ok, it's time It's time per prendere Ancora tanta cobblestone Ok E poi, 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 poi Dobbiamo portarli là Ci serve, ci serve, ci serve Ci serve Delle dark wax lab Ci serve della lana Ok, va bene Gli hopper Che già li posizioniamo Insieme ai lava bucket Ci portiamo una cesta Giusto per depositare Una crafting table Per forza Una cesta Giusto per depositare qualcosa Che può essere lì Utile lasciare Questo lo leviamo E già stiamo Sulla buona strada Che cos'altro Ci può essere di aiuto In questo momento Per portare la villager Le barche E rotaglie Quindi con minecart Rotaglie e minecart Rotaglie e minecraft Penso di sì Rotaglie e minecart Io penso di farmi Tranquillamente Anche con degli altri Sticchini Facciamo, guarda Dai, facciamo così Tac Tac, tac Perfetto Così abbiamo la possibilità Di farci delle rotaglie Vero? Sì Ok Abbiamo parecchie rotaglie Sì lo so Abbiamo sprecato un po' di ferro Però tanto ragazzi Questo serve per fare la farm Che ce frega Poi farmeremo come i draghi Avremo una quantità di ferro Da far schifo Ci va più che bene Ma che cazzo è successo? Come cazzo hanno fatto? Scusate Non è possibile Non è possibile Si sono liberati a là Ci sono cinque Iron Golem C'è una colonia di villager Pazzesca Questi sono villacciosissimi Sti stronzi C'è una colonia di villager Ragazzi Che mette paura Fa spavento Da quanti villager sono Pazzesco Pazzesco Allora questi sono villager Che non ci servono Voglio togliere questo letto Questo letto Farò una cosa del genere Vediamo se ci riesce Tac 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 Tu esci Ok Perfetto Loro Saranno i villager Che noi porteremo Fuori Ok Bene 4 Iron Golem Più 2 6 Va fermata Sta colonia Raga Cioè ci conquisteranno Sta veramente Andando fuori di testa Sta roba Pazzesco Non ci credo Ma che cazzo Guarda quanti sono No è fuori di testa Veramente fuori di testa Allora Facciamo così Mettiamo la barca Uno Quella è uno Dentro la barca Lo facciamo Ah sono addirittura due Eh ma due no Cazzo non è che due Due Non ci potete entrare due Nella barca Allora Non ci siamo ben capiti Madonna raga Sarà un casino Ok A questo punto Questo Li ributtiamo dentro Beh Fuck that shit Però Non voglio che tu esca No 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 Allora fai così E questo sale Io faccio così Ne vado a prendere Un'altra di barca E faccio salire Anche l'altro villager Guardate Sarà un casino Penso questa roba Che non avete idea Veramente Sono pronto A fare le peggio cose Che Casino Raga Veramente Che casino Che casino Che casino Restate qua Perfetto L'altro villager Lo metti Nell'altra barca Aspettate Ok Nice Perfetto Andiamo Lo resteremo Ok Andiamo a portarlo via Comunque penso che la espanderemo La colonia di villager Di là Si riproducono come Le bestie Cioè Facciamo lavorare tutti insieme Ci sta Secondo me Fare proprio una colonia Di villager La pensiamo bene Dio raga Che fatica oggi Allora Questo lo chiudiamo così Ok Perfetto E scendiamo Perfetto Ok Quindi spingendolo Il minecart Dovrebbe Mi dico dovrebbe Fare una cosa del genere Arrivare qua Noi romperemo Poi Il coso Faremo entrare il villager Qua dentro Salterà Chiudiamo questo Lui non può più scappare Trap Dors Sì Dark Slab Sopra White Carpet E gioco È fatto Ok Vediamo se effettivamente È così Adesso il tutto sta nel far Salire il villager Ok Perfetto Il villager è salito A questo punto Ci basta Prendere il minecart Posizionare il villager Sulle Cavolo di Rotaglie Mettere il minecart E far spingere il villager Ora per spingere il villager Mi avete consigliato un minecart With furnace Io penso che sia una buona idea Visto l'andazzo Perché qua per far salire Il villager Ci vuole un No ok Minecraft with furnace Ho la barca A questo punto mi porto là Anche l'altro villager Ne mettiamo dentro già due Tre ne dobbiamo portare Botta Mamma mia Quanto è lungo Ecco fatto il minecart With furnace Prendiamo Coal Ce ne abbiamo Quanto ci pare Mangiamo Torniamo di sotto E andiamo A questo punto A prendere il secondo Villager Dagli regà Dagli regà Devo Devo buttarmi Brutalmente Voglio No Lo voglio 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 Prendilo Ok Nice Tac Qui effettivamente è comoda Sta uscita Probabilmente la terremo Sì Ok Ha senso Tenerla Sì Ha senso Tenerla Passerò Un botto di volta Da qua Fanculo Perfetto Andiamo Con il secondo Villager Se ci pensate Questa è una cosa Crudelissima Cioè Crei Una colonia Di villager Ok E vabbè Lì ci sta Perché rapisci Un paio di villager Da un villaggio E poi li fai ripopolare Va benissimo Poi Con il loro aiuto Fai spawnare Golem Magici Va bene Che hanno come compito Quello di difendere I villager Quindi potenzialmente I villager sono un po' Affezionati a questi golem E tu Brutalmente Li uccidi Massivamente Per produrre ferro Sotto i loro occhi E li tieni Costantemente D'assedio Con Un Con degli zombie E' una cosa terribile Cioè potenzialmente E' bruttissima Sta cosa Ok nice Ci è voluto poco Comodo al minecraft With furnace Ok Si è buggato qualcosa Ah questo lo leviamo Perfetto Questo lo Levia Oh E' nato Ma che stai a dir Sto testa di cazzo E' andato a letto Mamma mia il colpo Pazzesco Non ci credo Ok vabbè ma va bene Ci va bene anche a noi Perfetto Io faccio una brillante cosa Tipo Così e così Grande Che funziona la cosa Bello I like it I like it The second one Andiamo a prendere il secondo villager Grande Figata ragazzi Sono felice di sta roba Scusa Scusa Non volevo Non era mia intenzione Mi dispiace Però non è sta spadona Eeeh Mo' è arrivato E che sarà mai Appena spadadina Poi villager Poi si incazzano i golem E' un casino Con questi stronzi Guardate Disastro Ah facciamo così Stavolta provo a romperla Senza farti male E che palle Ma non è colpa mia Non so perché tu prendi danno L'altro non lo prendeva Ok ragazzi Una volta posizionati Tutti e tre i villager Dobbiamo fare una cosa del genere Tac 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 Eh Mi dispiace Così Ok questo Poi lo dobbiamo togliere Devo rifarmi un'ascia Un'accia Un'accia Come cazzo Un'ascia accetta Ho fatto una crasi Tac E successivamente I carpet Del tipo Tac Tac Pazzesco Ok perfetto A questo punto Potete tranquillamente Togliere queste parti qua Non vi serve Questa non ci serve Questa non ci serve Questa non ci serve Le rotaglie ci servono Perché Ok questo lo dobbiamo Questo lo leviamo Non ci frega niente Questo lo leviamo Va bene va bene va bene Non è successo niente Questo lo leviamo Questo lo leviamo A questo punto che cosa dobbiamo fare Noi possiamo risalire qua Magari mettere qualche E andiamo un po' Ok Romanaccio che esce Saliamo A questo punto Cambiamo Il Diciamo il percorso Delle rotaglie E lo portiamo A questo punto Di qua Per esempio In modo tale Da Poter riempire Anche questa parte Di villaggia Tac Tac Ok lo facciamo Variare qua Qui chiudiamo Qui chiudiamo Perfetto Questo apriamo Questo lo chiudiamo E dai Con le rotaglie Tac 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 Così E fai entrare I villager Qua rompi E solito procedimento Ho rischiato tantissimo Solito procedimento Facciamo un po' di parkour Hop Hop E Solito procedimento Per tutte le basi Let's go Ora io ho ucciso Dei villager Voi non me vedete? Ma tutta sta gente Ma perché C'è stato tutti Sti cazzo Di golem Ma dai raga Comunque ho deciso Di fare una cosa del genere Questi li lasciamo qua Come campi Va bene I letti però Che non mi piace Vederli qua Li portiamo Tutti in un'altra zona Facciamo una casa Dei villager gigante Tipo Mezza lì dentro Oppure lì sopra Che va in questa zona qua Magari qui ci facciamo Un altro campo Ci stanno? Tanto ormai Allora i campi Sono di qualsiasi cosa Quindi li riesci a coltivare Quanto ci pare Facciamo tutti sti campetti qua Magari qui Una zona villager Una casa Con tantissimi letti E tutto il resto Secondo me È una cosa abbastanza figa Da fare E Solito 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 Questo lo arriviamo Facciamo uscire Un altro villagero Per poi Richiuderli di nuovo Tutti Brutalmente Dentro casa Su 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 Bravissimo No No Allora Se siamo capiti Uno di voi deve uscire Chi? Non mi frega niente Basta che esce Villagero fatto uscire Questo lo arriviamo Non ci frega niente Questo lo mettiamo Qua la piazza Sta barca Ok Ci prendiamo la cobblestone Che male non fa Tac E via Ho lasciato un sacco di cose Di là Ho fatto una mini Base Perché comunque Era inutile portarsele dietro Ho richiesto magari di perderle Che per carità Che ci uccide Stiamo facendo tutto di giorno Tutto molto chill Però è sempre buono Ho settato lo spawn point Di là In modo tale Da Poter tranquillamente Fare cose Saltare e tutto il resto Se muoio comunque Rispono là Ed è proprio facile Perché ve pare facile Ma due palle Ma pure fregato il letto Questo non ce l'ho un altro Che a voi ve pare facile Ve pare Ve pare E dai eh Perché lui può andare a letto io no? Ma aspettiamo Adesso voglio vedere se scappano Che prima facevano i belli giretti Adesso A parte che posso fare una figata Senza che posso diventare matto In quest'episodio Eh Così Tipo Cosa del genere Qual è il primo? Qual è il primo? Questo Questo è il primo Fai così Così loro hanno un percorso indicato Sostanzialmente qui possono andare E basta Ok una volta che salgono Non si possono muovere A meno che non decina di salire Dall'altra parte Ma Salgono qui Sostanzialmente io li spingo E una volta che stanno qua Qui devono andare Per forza Molto bene A questo punto Non mi resta che Far salire Questo di qua Questo serve tutto per sveltire il processo Effettivamente Perché se no io Do di matto oggi No ma lavorare con questi villageri È difficilissimo Non c'è verso Non salgono Non collaborano Ma poi purtroppo per sbaglio Di voi dare una hit Allora Ti prego Sali Sali in barca No Ok bravissimo A questo punto Mi sono buggato Ok perfetto A questo punto Rompiamo qui Questo Rompiamo questo Rompiamo questo E questo E questo Torniamo di qua Facciamo così Entriamo con la barca Lasciamo questa Mi sono piantato nel ghiaccio Non so come Non me lo chiedete Leviamo Questo qua Ok Perfetto A questo punto Lui può fare solo una cosa Quella di andare In quella direzione Io qua posso anche chiuderti No 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 Eh no Eh qui che ti sbagli Eh io posso fare anche così In verità Tac No 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 Non devi andare lì Io posso riempire tutto di rotaglie Così che lui appena scende Io ho disponibili subito Le rotaglie per mettere i minecart E lui sale Sul minecart Qui no Ehm Vabbè ok Ha senso Tutto questo ha senso Facciamo scendere il villager Perfetto No non devi tornare qua Non devi Ok bravissimo Vai 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 avanti Perf Dai ok vai 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 Fantastico Ok Adesso non puoi più sfuggire Ma Ci va da solo? Ci va da solo Ci vanno da soli Stai scherzando? Ci va Che figata Non lo sapevo Ci andassero da soli Ok Ma che cosa fighissima Che ci vanno da soli Loro vanno verso i letti E se gli indichi la strada Lo fanno da soli Figata pazzesca Ho trovato il metodo Ragazzi Ci vediamo Appena li ho fatti tutti Ragazzuoli Ce l'abbiamo fatta Sono passati circa due ore Sì più o meno Circa due orette Dall'ultima volta Che ho fatto una clip Li ho messi tutti Il segreto Poi in verità Si prende il via Perché non è difficilissimo Farlo Nel senso C'è un ape Ciao ape Che cosa devi fare? Ti devi preparare Tre villager Sostanzialmente l'idea era Prendi tre villager Li porti qua Li chiudi Aspetti che si liberi No? E poi Aspetti la notte Loro possono fare Soltanto una cosa Andare qua E vanno qui Li lasci dentro E buona Basta Non fanno nient'altro Poi fanno tutti da soli I minecart ti servono raramente Potensi qualche volta Per dargli una spinta Magari uno sprint E tutto il resto Però vi giuro È stato un attimo Adesso devo togliere tutto Fino a un certo punto Perché calcolate Che bisogna comunque Portare gli zombie Bisogna mettere tre zombie Uno, due, tre Sto lo leviamo Però la parte più difficile Da portare i villager Gli zombie Non so come portarli In verità Per il semplice fatto Che dobbiamo stare attenti Che non Si Non prendano fuoco Cioè non muoiano Per il sole In che modo O portandoli di notte Quindi li attireremo Quindi li attireremo Li faremo arrivare là E Buona Li abbiamo già pronti Qui dobbiamo Tanto non ci serve Che loro possano seguirci Cioè loro ci seguiranno da soli Non c'è bisogno Per portarli con la barca Saranno cazzi Perché loro tenteranno Di hitarmi In tutti i modi possibili E probabilmente ci riusciranno Posso tirarli? No Però per forza Con le barche Devo portarli Non è proprio 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 Rose alla situa Certo Averli presi qua Sarebbe stato più comodo Con tre name tag E tre zombie Una volta messo Cioè magari Aspetti che gli zombie arrivano Ti seguono Li lasci là Sarebbe stato più comodo Gli zombie ce li abbiamo Qua li portiamo Allora Andiamo a prendere i calderoni a casa Io Dove cavolo è la barca? Non so dove sia la barca Ma va bene Che cosa facciamo? A sto punto Andiamo Andiamo a casa E la E prendiamo No Prendiamo I calderoni E mettiamo i posti Dove devono stare gli zombie Successivamente Andiamo a prendere gli zombie Ok ragazzuoli Eccoci qua Dopo un altro Bel po' di tempo Passato A non fare un cazzo Ovviamente non ho Fatto nulla In questo Frangente di tempo Torniamo a lavorare Sulla Iron Titan Per fare questi video Me li spezzo Semplicemente per il fatto Che se no arrivo stanco E faticherei A registrare di fila Tanto tempo Pertanto Questa è Is the way Spezziamo E è meglio Allora 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 Dobbiamo mettere i calderons I calderons Come li mettiamo Devono stare al centro A questo punto Torniamo qua Hop Hop E dobbiamo abbassarci di uno Così Esatto Lo risaliamo E facciamo una cosa del genere Allora Dobbiamo portarci al pari Di questa zona qua Non che via su di uno Ok Esatto Quindi Dobbiamo andare Esattamente al centro Qua è al centro Fare così Perfetto A questo punto Dobbiamo chiudere Qua fare così Magari Qui chiudiamo Qui che cazzo Ne so Facciamo così Ok Questo lo chiudiamo anche Perché lui poi sarà attratto dai villager E deve essere attratto da noi Quindi fa così Qui non può andare Facciamo magari così Quindi lui fa così Così Qui facciamo tutto il giro Il linee massima Così che lui possa andare di qua E noi intrappolarlo successivamente Tac Qui lo alziamo Perché lui dovrebbe fare così E cadere qua dentro Pertanto questi devono essere comunque più alti Ok Io faccio così Salto Vado qua E lo chiudo Poi metto sopra i blocchi del caso E lui non può più fare nulla Ok Questo Is the plane Perfetto Speriamo funzioni Ovviamente ci prendiamo sia I slab Sia I carpet E a questo punto Andiamo a cercare un mob Che possa impugnare un oggetto Spawnano uno su due Quindi non è che è così raro Speriamo non spawnino creeper Che facciano saltare in là Da nostra zona Perché se mi sale un creeper là sopra Mi esplode tutto Io vomito Non sto scherzando Dopo tutto il tempo che ci ho messo Vediamo Vediamo Aspettiamo Ragalla in fondo ci sono gli orsi polari Andiamo a prendere l'orsetto polare Che figo si l'orso polare Ci sta un bot Allora aspettiamo che spawni qualcuno qua Se non spawna qualcuno Vediamo che prende è impossibile Andiamo a prendere quelli che abbiamo a casa Ok E' la prova del nove Ne facciamo uscire uno E poi gli altri li richiudiamo A destra dei cazzo E dai eh Tac Perfetto Oh Ok Skill Ok Ok lui mi mena Però mi mena poco No mi mena un botto Oh a stronzo Ma che è sta cosa Mi menerà un botto raga Veramente un botto Ma che devo fare Madonna raga Oh no 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 Non si può fare No 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 Non si può fare Non si può fare Non si può fare un casino Disastro come faccio io Prova a spingerlo Ma come cazzo si fa Ma come devo fare Se ti spingo Eh no Eh no 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 Come faccio a portarli avanti Cioè non ci avevo pensato a sta cosa Effettivamente ha senso Come posso spingere io Uno zombie Fatemi pensare Proviamo con un'altra barca Se si spinge Pure Allora Rimandato tutto Ah Allora Quegli zombie li terremo lì Faremo gli esperimenti Facciamo delle cose Mannaggia 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 Che odio Veramente raga È un disastro Avevo da casa Fortuna diciamo che non avevo Troppe cose addosso Seppur l'esperienza Mi dispiace Perché io Sette cose di esperienza Pur avendo Faticosamente raggiunto I venti E passa Però È andata È andata È andata E vaffanculo Lo zombie ovviamente è morto E questo è un cazzo di casino Ora io devo riprendermi Questo e questo Voglio anche riprendermi Le varie le ultime cose Che mi sono cadute Tipo questi calderoni Se ci sono altre cose Assomma le cerco Mi mancano giusto due Che dovrebbero stare a ste parti Vorrei farvi apprezzare due cose La prima È come se ha spawnato Un villager là La cosa rimane abbastanza Oscura Ma non mi interessa La parte seconda È che ha spawnato Un iron golem Ebbene sì ragazzi E sono morti tipo Non so quanti cazzo di Ah è perché certo Sono attra Ma i villager Attraggono gli zombie Ha senso questa cosa Possiamo Può funzionare Allora Può funzionare Mi sono preso del legno Per il sempre fatto Che voglio fare dei cartelli E voglio creare Il sistema di killing Degli iron golem Così almeno se lo leviamo È buona Ok Quindi facciamo così Tac 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 Facciamo così Facciamo così Facciamo così A parte che posso farlo Già di qua Tre cartelli In verità ce ne serviamo di più Nove E forse qualcuno di più ancora Giusto per completezza Ne facciamo Ecco dodici E siamo tranquilli Ci prendiamo la lava 1 2 3 4 5 Un botto di lava E andiamo A provare A sistemare Questa parte qua Addio Amico Addio Anche se non prendiamo il ferro Non mi frega un cazzo Però lui mi uccide Mi avrebbe ucciso Stronzo E io no Va bene va bene va bene va bene va bene Allora Leviamoci da qua Spacchiamo questa roba qua Ok Nice A questo punto Dove mettiamo la lava Possiamo mettere la lava Ferma Qua Quindi tac 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 Così 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 E ancora The last one No Non c'è nessun last one Uno No E no Tu non sei da mettere qua Due Due Poi Una cosa del genere Tac 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 E da last one Tac Così loro Muoiono brutalmente L'altezza dovrebbe essere giusta In casa Passiamo di uno E Buonanotte Funziona perfettamente Ok A parte Piccone che scava troppo Ma ci siamo Ok Perfetto A questo punto dovrebbero arrivare i mob E noi sapientemente Dobbiamo dargli qualcosa Da tenere in mano Così che loro possano Non desponare E noi tranquillamente Rinchiuderli Zitti 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 Che uno ce l'ha fatta Zitti Allora Aspetta Buoni 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 Fatemi fare le cose con calma Ok Vieni qua Forza Hop Vabbè Tanto è lento Abbiamo un vantaggio competitivo Che è tra l'altro Pure Stupido Su Dai Non è difficile Dai 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 Ma che cazzo stai facendo Iamo bello su Iamo 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 Ok Perché cazzo vai di là Ok 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 È stato più furbo di me stavolta Perfetto Ok Allora non dovremo avere problemi A questo punto A trasportarlo all'interno Se non mi chilla prima Tutto è possibile Ah se non si distrae Da villager E da cose esterne Ok Perfetto Ok lui dovrebbe riuscire Lo dovrei bloccare Aspettate Quando si Andava lì Devo Devo tentare di Vediamo eh E non Non mi fa mettere il blocco Perché lui Ok E dai Cioè È impazzito Completamente Fai Aspetta 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 Fammi fare così Fammi togliere questo Che così lui mi vede Mi targettizza E dovrebbe venire qua Au A fenomeno Ma dove cazzo vai Madonna Fortuna 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 Set point qua Sì Lo spawn point qua Buono Comodo Direi Comodo Particolarmente comodo Tutto quello che avevo io L'ha preso l'hopper Quindi Va bene Chilling Devo solo prendermi un paio di cose Per poter attaccare Lui che dovrebbe essere In fin di vita Au Stronzo No Ok Tac Tac Vabbè Riprendo tutto Se a colpo ferire Posso attaccarti Dico Faccio così Madonna Alzato di uno gli hopper Morto un milione di volte Arriverà Il giorno in cui ce la faremo Che poi tra l'altro Riaggiurano di nuovo Io un altro zombie Lo volevo trovare Però Mi sa che a sto punto L'hai dato male Eh Sta facendo si giorno Non credo Villager comunque Sono più collaborativi No Veramente Paragone Comunque basta un secchio d'acqua Un secchiello d'acqua Un di lava Dicevo In mezzo Non è che servono Chissà quanti Quattro le hopper Perché vogliono fare figli Uno ne basta Eh Sto aspettando che sponi qualche zombie Che cazzo ne sono Spona nessuno Sempre pieno di mostri Adesso Vuoto Totale Silenzio Ci sono anche villager Andateli ad attaccare Niente Poi dice No non si incazza Sti mob Sono oggettivamente Ritardati Guardali Ma sei ritardato Oggettivamente Ok Sei tri Ce l'abbiamo fatta Sei giorni Dai 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 Che ce la fai anche tu Lo sappiamo Io credo in te Tac A questo punto Devo aspettare che vi faccia tutto il giro Il cazzo Ok Mi metto di qua Tac Tac Ti chiudo Mi vedi? E poi lui inizia a fare Sta cazzo di cosa Che tipo Mi vede Non mi vede Ti vedo Non ti vedo Sta impazzendo Lentamente Vedete E poi va dall'altra parte No 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 Andare Non andare No 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 Ok vedete il golem come spawna Appena un zombie si avvicina qua Il golem inizia Spawna noi golem Sì però Sei stupido figlio mio Oggettivamente Hai problemi Cazzo Sì Torna giù Tornai qua E tanto Vedete l'altro intanto muore Morirà anche lui Non ci ha perso È una lotta È un giulo È una lotta impari Forse E dico forse Ci siamo È una spintarella Se viene di qua Tipo Tipo Così Esatto Adesso dovrei cadere per forza Sei destinato ad entrare lì dentro A furia di movimenti Per forza Lì dentro ci devi entrare In qualche modo Figa Per forza Non puoi non entrarci Io vi giuro Non ce credo Oddio Eureka 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 Cazzo Eureka Finalmente Ci sono stati Millennici abbiamo messo Ma alla fine L'importante è il risultato Quello che conta Vedete come iniziano a spawnare Gli Iron Golem Allora Vi spiego la meccanica brevemente Se già non ve l'avevo spiegata Comunque la rispiego Da non so che versione Gli zombie Gli Iron Golem Non spawnano più a caso In un villaggio Spawnano soltanto Se un villager Ne ha bisogno Cioè se si sente minacciato Da Un Da una Cioè se effettivamente Si sente minacciato Quindi c'è una minaccia La minaccia è lo zombie In questo caso Noi Facciamo minacciare Da questo zombie Quel villager E quel villager Così che loro Possano spawnare Un Iron Golem Stessa cosa per loro Stessa cosa per loro Questo fa spawnare Tantissimi Iron Golem Ma anche perché Loro continuano a spawnare A manetta Visto che poi muoiono In 0-2 E quindi Continueranno A spawnare Spawna 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 Chilla 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 E noi facciamo un botti ferro Vedete già C'è un altro là sotto Questo è Per uno zombie solo Pensate con altri zombie Calcolate Che abbiamo fatto 19 pezzi ferro In 30 secondi In 0-2 E l'efficienza della farm È nulla per ora Pensate A quando avremo Completato il tutto Adesso Ce ne servono altri Io però Mi servono zombie Che possano Venite Tieni qua L'idea era questa Guarda io Faccio così Per gli zombie Vediamo se non ve l'ho mostrato In video Allora Mi tiro su tranquillo E inizio a buttare cobblestone Se loro raccolgono la cobblestone Li uso Se non la raccolgono Li uccido Raccogli la cobblestone Non raccogli la cobblestone Puoi tranquillamente Essere chillato Perché tanto non mi serve È un cazzo Ciao Allora ragazzi Io Per stasera Mi fermo qua Give up Perché veramente È tantissimo È Ci ho messo Una quantità di tempo A fare questo video Che non avete idea Effettivamente Ci ho messo troppo tempo E tempo che effettivamente Non ho Perché devo lavorare Come solito Alla start up Là Ci abbiamo Un villager Ho messo gli altri Due calderoni Ho pronte Le linee Di passaggio Per andare Da una parte all'altra Proverò domani mattina A mettere dentro I villager Sistemare tutto E vabbè Potenzialmente Già Se mettiamo dentro Ci manca a mettere dentro I due I due mob Uno ce l'abbiamo fatta Mancano due È lunghissima Giuro una delle Più faticose imprese Che abbiamo mai fatto È terribile Perché se a metri D'altezza Come ti muovi Puoi spawnare Gli aree un golem Da fastidio È veramente un casino Tra l'altro Finito il cibo Ha finito le patate Quindi fortunatamente Ho tipo una stack Di bistecche Che andranno benissimo Per il nostro sostentamento Ci vediamo ragazzoli Tomorrow morning Per me E voi tanto vedete il video E speriamo Di riuscire A mettere dentro Sti stranzi Ok ragazzi Parlo abbastanza piano Perché comunque è tardi Sono riuscito a mettere Il secondo Bestiaccio qua Ce ne manca uno solo E è oggettivamente tardi Stavo distruggendo Questa piattaforma qua E No fantastico Veramente fantastico Allora abbiamo un problema Qui spawnano Funziona Peccato che Ho dovuto raterla Solo questa parte qua E farò anche di là Ma è molto più grande quella Per il semplice Che gli aree un golem Non mi spawnano fuori Perché trovano punti di spawn E lo fanno A questo punto Io devo creare Una piattaforma Per andare in questa altra direzione Nella speranza che Qui devo stare attento Perché Vedete come spawnano Però Cioè Quei respawn è buono Fare così Fare così Perché se no Mi massacrano i zombie Tac Tac Sì ma massacrano i zombie Cioè voglio aiutare Comunque loro possano fare questa cosa Accentrarmi A questo punto Fare una cosa del genere Tac Tac Andare verso l'interno Salire Quindi fare una cosa del genere E Stare pronti A fare entrare Tutti Gli stranzetti Qua dentro Allora l'idea È questa qua Ve la faccio vedere Una tecnica un po' più semplice Per fare entrare Loro Dovete abbassarvi un attimo Così Così Adesso lo stranzo io però Perché non l'ho fatto qua Vabbè non riporto da di quanto Cobblestone ne ha presa Vabbè Facciamo così Tac Andiamo da quest'altra parte Hop Ancora non riesco a farlo da qui Devo scendere Dovete tirarlo più giù Quindi qui Così Perfetto Questo Hop Lo ritiriamo su Tac Tac Questo lo abbassiamo Facciamo così Così Questo lo allontaniamo Uno Due Tre Tac Perfetto A questo punto ci serve il modo Per risalire a noi Hop Qui ci allontaniamo ancora un po' Perché siamo a per gli zombie Quindi a questo punto Noi facciamo così Questo lo alziamo Questo lo leviamo Questo lo lasciamo qua Ok Quindi noi saliamo Facciamo così Hop Ci allontaniamo E lo chiudiamo qua Lui continuerà a targettarci Ci spostiamo di qua E di solito entrano Non so se funziona Boh Non l'ho provato tante volte L'ho provato per quello là Ma ho detto Fortuna così Ho detto Vabbè ci riprovo Però Questo è quanto Quel golem name Disturba tantissimo Però non posso ucciderlo Perché mi uccide lui E quindi ce lo daremo Per un po' Ragazzuoli Eccoci qua Aole C'è anche lui Ce l'abbiamo fatta È stata una cazzo di odissea Questo è tutto il casino Che ho fatto io Vabbè si è stato Abbastanza problematico Adesso smontiamo tutto Senza possibilmente Smontare anche il calderone E ce ne possiamo Tornare a casa Ok Perché Dobbiamo fare veloci Prima che spawni Qualche golem qua sopra Perché se il golem Poi si avvicina Al mostro Ce lo uccide Venisce male Allora voglio andare a vedere Un po' l'efficienza Di sta farm Sostanzialmente Perché abbiamo visto Che Beh funziona Per funzionare funziona Io che dicevo Esattamente Sono bestiacce satani Che bisogna stare attenti E loro ovviamente Ci hanno Questa è la zona massima Di spawn E possono spawnare qua Adesso poi funzioneranno Al massimo Questi Queste farm Perché abbiamo già I tre I tre zombie Attivi Quindi i villager Si sentono Sbagliato Hop Fai così Così leva questo Ok abbiamo quasi fatto Tanto tutta sta cobblestone La perdiamo Ma non mi credo un cazzo Produrremo una quantità Di ferro pazzesca E quindi Bastica Ok Dovremmo essere salvi I cosi Sono salvi Andiamo a vedere adesso Come si comporta La nostra farm Dopo tutto quello Che abbiamo fatto Ho spianato una quantità Di roba incredibile Faccio vedere anche Il lavoro che ho fatto Off camera Lavorato un po' Off camera Perché Già arrivano Arrivati alla fine Vedete poi questi Crescono Cioè questi si No eh Oh Fa scherzi Vedete qua Qua ho spianato Talmente tanto Ma vi giuro che Si spacca in un attimo Cioè guardate qua Cioè Capite che A spianare ci vale Veramente poco Infatti continueremo La nostra Avanzata Ciao stronzo Ciao stronzo Da qui non mi prendi Esatto Craccato Come si dice Fortnite Che poi Qui effettivamente Si rompe proprio Pazzesco Molto Molto Nice Ok vediamo Quanto ferro abbiamo prodotto Prima di completare Poi tutte le Le ultime cose Le ultime migliorie Della farm Discreto 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 Sono tre stack Però la La piena attività Ancora non era Non era in piena attività Adesso già stanno spawnando Altri due Vedete Oddio che figata Come spawnano Ma che pazzesco Guardate che figata Aspettate Aspettate No vi giuro Dobbiamo vedere bene Ok Vediamo un po' Quanti spawnano Nel range A parte tutti questi Materiali Che mi dà fastidio Lì in mezzo Aspettiamo Ok praticamente Vanno a ondate Ne è spawnato un altro Adesso Non è passato Molto tempo Eccoli qua Allora vanno a ondate Di tre Circa ogni Trenta secondi Quindi facciamo Circa sei golem Al minuto Sei golem al minuto Cinque Cinque No Vabbiamoci bassi Quattro pezzi di ferro A golem Sei per quattro Ventiquattro Pezzi di ferro Al minuto In un'ora Per sessanta Non so quanto fa Però comunque è abbastanza Vediamo un po' Quanto facciamo Ventiquattro Per sessanta Mille Cinquecento Circa Pezzi di ferro Allora Stai due tre ore Fk qua Buonanotte Fantastico Pazzesco Meraviglioso GG Uno Punto Esclamativo Siamo felici e contenti Di aver creato una farm Che effettivamente funziona E funziona anche bene Qui leviamo tutto Perché sti cazzi Ci abbiamo veramente Faticato un sacco Per fare sta farm Di merda Che altri Siamo morti Un milione di volte Qui ci riprendiamo Tutto quello Che avevamo messo qua Questo lo leviamo Ci leviamo anche il letto Perché non ci serve Io non so dove ho le barche Questo ormai È un mistero Della fede Sapere dove io metto le barche Questo lo leviamo Eh vaffanculo Ho spaccato mezza roba Questo ce lo riprendiamo Giusto per Andiamo a vedere Il ferro rimanente E possiamo decretare La fine di questa Iron Titan Pazzesco Forse anche meglio Poi ci mettiamo a timing A far vedere sta roba Vabbè ragazzi Io penso che Abbiamo finito La farm è pronta È funzionante Adesso sarà soltanto Sistema Di creare un modo Che io vorrei fare Sott'acqua Però mi serve tipo Un chilo e mezzo Di vetro Che mi arriva Con la rail A casa Il ferro Sarebbe fichissimo Oppure lo facciamo Con l'acqua Naturalmente In canale d'acqua Però vedete C'è Guardate Uccido Lato positivo E che comunque Qua ci possiamo Prendere la barca E tornare là Facciamo prima Però 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 Fuck Vabbè ragazzotti Penso che per questo video Posso tranquillamente essere tutto Non so quanto è venuto lungo Vi ringrazio per tutti i mi piace Che avete lasciato Nei scorsi episodi A mille Non ci siamo ancora arrivati Sono 850 stamattina Però Va più che bene Cioè è veramente Fantastico L'episodio è venuto Non so quanto è lungo Però penso Sarà una quarantina Cinquantina di minuti L'Iron Titan L'abbiamo completato È stata un'odissea E quindi ragazzotti Per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo per la visione Lasciate un mi piace Se vi è piaciuto Iscrivervi al canale se avete fatto Di condividere il video Per farmi riuscire a una persona Postate tutti i link in descrizione Facebook, Instagram e Telegram Noi siamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi